Bentornata, bentornato Goodler, proseguiamo nella descrizione del BIOS ad interfaccia grafica continua a stravolgere le sue impostazioni. Ora entriamo in una sezione dedicata agli smanettoni, ossia una sezione che ti permetterà di eseguire delle implementazioni, delle prestazioni di alcuni dispositivi hardware. La contraddicazione però è che se imposti dei parametri impropri in questa zona particolarmente puoi portare al malfunzionamento o, peggio ancora, al blocco del tuo PC. Ma è nulla di irrimediabile in quanto comunque potrai reimpostare i parametri base del programma e tutto potrà tornare a funzionare correttamente. Di seguito ti descrivo una parte di queste funzioni. La sezione specifica in questo dato BIOS è definita come sezione Tweaker. Troverai ad esempio la funzione Memory Frequency in cui potrai impostare la frequenza di lavoro in Mekers della RAM installata sulla tua schiera madre. In questo caso è conveniente lasciare una selezione totalmente automatica per non creare qualche blocco. Un'altra funzione simile è IGPU Max Frequency che ti permette di impostare la massima frequenza di lavoro del processore grafico. Lascia le impostazioni su automatico. Queste due funzioni specifiche indicano una conoscenza un po' particolare dell'hardware installato sulla tua schiera madre, cosa che con il tempo implementerai. La funzione GPU Boost si ricollega proprio a quest'ultima opzione, in quanto se nella stessa avrai selezionato l'opzione OK in modo da ottimizzare in maniera automatica la frequenza di lavoro del processore, oppure potrai impostare Cancel, legherai in questo caso la frequenza di lavoro massima al valore precedentemente impostato nella funzione GPU Max Frequency. Quindi questa è la sezione i Tweaker dedicata agli smanettoni. Nella sezione Memory Frequency potrai impostare, se non selezioni la funzione in automatico, potrai impostare la frequenza di lavoro massima della tua RAM, in questo caso specifico il valore già preimpostato a 1333 MHz grazie al rilevamento automatico della schiera madre stessa, del BIOS stesso. Nella sezione i GPU Max Frequency, che ripeto in questo caso è evidenziato il parametro automatico, potrai selezionare, se tu lo vuoi, la frequenza massima di lavoro del processore grafico, che è legata in particolar modo a questa funzione che presenta il sottomenu GPU Boost, nel quale potrai impostare un valore automatico e quindi si ricollega alla impostazione automatica presente in questa funzione, oppure impostare un valore manuale che poi si rifarà al massimo valore di frequenza impostata in questa funzione. La sezione Advanced è anch'essa dedicata agli smanettoni, in quanto ti permetterà di impostare alcuni parametri avanzati. La funzione specifica CPU Configuration ti permetterà, tra le varie cose, di impostare o meno il controllo di sicurezza sulla temperatura del processore, per evitare che si bruci, quindi avrai una risposta automatica del computer, qualora raggiungessi il valore di temperatura massimo impostato, come ad esempio lo spegnimento dello stesso. Potrai anche impostare il numero di CPU, in inglese Core, da utilizzare e presente all'interno del package del processore, quindi all'interno della CPU stessa. Potrai attivare o meno anche la tecnologia di virtualizzazione, che abbiamo visto qualche lezione fa, è riferita alla capacità di poter creare macchine virtuali all'interno del tuo PC. Altra sezione dedicata agli smanettoni, se così vuoi, è la sezione Advanced, che presenta alcuni altri sottomenu, come ad esempio CPU Configuration, che ti permetterà di impostare un valore sul controllo automatico della temperatura massima accettabile dalla CPU, nel qual caso raggiungendo questo parametro otterrai una risposta dal bio stesso, come ad esempio lo spegnimento del computer. Ancora potrai impostare il numero di Core, quindi il numero di processori presenti all'interno del package della CPU, o infine abilitare la tecnologia di virtualizzazione, che in seguito ti tornerà utile per creare una macchina virtuale. Un'altra sezione all'interno della sezione Advanced è System Agent Configuration, che ti permetterà di selezionare quale scheda grafica utilizzare all'avvio del PC, questo se sulla tua scheda madre sono presenti più di una scheda grafica. Potrai impostare la quantità di memoria RAM disponibile per la scheda grafica, se invece è integrata nella scheda madre, quindi da condividere con la RAM installata sulla stessa. Potrai impostare o meno anche la possibilità di pilotare più monitor tramite la scheda grafica. Quindi la sezione System Agent Configuration ti permetterà di selezionare quale scheda grafica utilizzare in fase di avvio se sono presenti più di una scheda grafica. Impostare il valore di RAM che dovrà condividere il processore tra la scheda grafica e il suo lavoro grazie alla RAM installata sulla motherboard, oppure eventualmente impostare la capacità di pilotare più di un monitor dalla scheda grafica presente sul tuo computer. Nella sezione SATA Configuration puoi impostare tra l'altro la funzione che già conosci, SMART, ossia Self Monitoring Analysis and Reporting Technology per il disco rigido, che ti permetterà di avere notifiche con dei messaggi di allerta in fase di avvio qualora il BIOS rilevasse alcuni problemi di lettura e scrittura sul disco rigido, preavvisandoti così su un possibile guasto dello stesso. Nella sezione SATA Configuration troverai alcune opzioni, ma diciamo che principalmente quella che può essere utile in fase di diagnostica è attivare la funzione SMART Monitoring per renderti partecipi qualora si presentino o eventualmente siano per verificarsi dei danni meccanici al tuo hard disk. La sezione USB Configuration ti permetterà di configurare alcune funzionalità dell'interfaccia USB, delle porte USB. In essa infatti puoi trovare ad esempio la funzione Legacy USB Support che ti permetterà di abilitare o meno l'uso delle porte USB durante il funzionamento del sistema operativo. La sezione USB Configuration che già è più o meno individuato nella descrizione del BIOS all'interfaccia classica trovi alcune impostazioni per poter abilitare o meno le porte USB del tuo computer ed eventualmente limitarne l'uso. Nella sezione Onboard Device Configuration puoi eseguire delle impostazioni relative ad alcuni dispositivi presenti sulla scheda madre e sul PC. Infatti potrai impostare dei parametri o abilitare delle funzioni ad alcuni dei seguenti dispositivi come la scheda audio, la scheda di rete, quindi Ethernet online, come vuoi chiamarla, e eventuali connettori frontali del tuo PC. Infine, in questa sezione, nel sottomenu Onboard Device Configuration, potrai impostare alcuni parametri di funzionamento dei vari dispositivi presenti sulla scheda madre, come la scheda LAN o la scheda audio. Nella prossima lezione continuerai ad eseguire altre impostazioni di questo BIOS ad interfaccia grafica. Ora, come sempre, un forte saluto. Ciao a presto da Carlo e dalla prossima! Ciao a presto!